Oggi, sabato 18 febbraio 2017, alle ore 16, collegatevi su radiocrossovertango.blogspot.it Parlerò della mia esperienza del tango per ciechi, vissuta dal 2008 al 2010. Domani, alle ore 15, all'Hangar 383 di Bastano del Grappa, terrò un workshop sul tango. Spiegherò la metodologia per far fluire naturalmente la musica dalle orecchie fin giù ai piedi. Vi aspetto. Grazie e buon weekend. Ho detto di stasera, ma fa culo. Ecco, buona, ci mancava il compito. Poi, quando lo faccio io da solo, dovrei scappare 50 minuti dentro l'altro, chi sa perché. No, ma ci stai tu e vieni papino sempre. Grazie. 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 Grazie.